Tre morti al Sabino esplodenti di Casalbordino, come tre anni fa, stesso luogo, stessi numeri. Tutto ciò lascia sgomenti, c'è dolore ma anche tanta rabbia. Di certo bisogna compiere un ulteriore sforzo sul fronte della sicurezza per garantire e tutelare i lavoratori. Ranieri, è il momento davvero di passare dalle parole ai fatti. Non c'è dubbio, quello che è accaduto ieri non può essere catalogato come una tragica fatalità, ma ci sono precise responsabilità. Stiamo parlando di un'azienda che usa le lavorazioni pericolose, soggetta a direttiva Seveso, dove già è successo un incidente mortale meno di tre anni fa. Ci sono dei procedimenti giudiziari in corso e quindi le autorità preposte in qualche modo devono vigilare. Come ha detto il Presidente della Repubblica, l'aumento delle morti sul lavoro significa che le istituzioni lo stanno facendo abbastanza e che molte imprese risparmiano sugli oneri per la sicurezza e questo non è accettabile. Bisogna fare di più, bisogna fare più ispezioni e quindi bisogna assumere personale, bisogna lavorare di più sulla prevenzione. Insomma questa deve essere la vera priorità del Paese e anche della nostra regione. Lavorare non può essere morire? Assolutamente no, questo purtroppo è uno slogan drammatico che si sta ripetendo quotidianamente e non va più bene. Non possiamo solo appagarci nel dare solidarietà alle famiglie perché c'è anche un tema, c'è una paura adesso enorme su quel luogo di lavoro e c'è anche un tema sociale che potrebbe portare la stessa azienda a non riaprire più. Noi dobbiamo cercare tutti insieme di riportare tranquillità nei luoghi di lavoro e questo deve essere un'azione di sistema da parte di tutti. 14 morti sul lavoro nel primo semestre del 2023 in Abruzzo, il dato è raddoppiato rispetto al 2022? Certo il dato è raddoppiato e non possono essere censite solo come fatalità, questo è. Siamo arrivati a un punto dove le parole davvero servono poco, adesso servono fatti. Noi dobbiamo lottare tutti, l'obiettivo deve essere zero morti, non un più o un meno rispetto all'anno precedente.